oh che bello dottore dottore presto dottore venga venga dottore sei svegliato sei svegliato che le dicevo signora che le dicevo collega che succede sei svegliato e ho coma collega veramente e come avete fatto e come abbiamo fatto abbiamo fatto sentire un cd di Gigi d'Alessio per una settimana 24 ore su 24 non permetti collega sinceramente mi sono svegliato perché volevo andare a spendere con una radia di casca di Gigi d'Alessio non ne ho fresco più ciò sono tre settimane che sto qua quale è un cazzo di Gigi d'Alessio cazzo di Gigi d'Alessio romano Gigi d'Alessio grazie